nome simone nickname mine simo come nasce questo nick allora questo nick ai tempi tempi in cui giocava minecraft avevo un nick che se mi chiamavo simu 2000 e a forza di giocare giocare farmi bannare dai server piano piano mi sono dovuto creare un altro nick che a forza di farmi bannare con quell'altro è sempre salito minesimo 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 infatti all'epoca il nick era xx minesimo xx che poi per abbreviarlo se no ogni volta di tutta sta palla è diventato minesimo quanti anni hai 19 colore preferito colore preferito rosso segno zodiacale leone l'ascendente non me lo ricordo studi o lavori studio e lavoro studio per modo di dire ovviamente i tuoi hobby allora i miei hobby che poi anche il mio lavoro è montaggio video monto praticamente di tutto dai video che faccio qui per boned alle canzoni ai cortometraggi è proprio una cosa che mi piace mettere mano su su ciò che tutto ciò che c'è dietro un film una canzone hai un canale youtube o twitch personale allora sì ho un canale youtube personale e in cui carico molte cose che faccio qui da boned e cose mie private canzoni cortometraggio oppure video che faccio per il privatamente per il mio canale dici in breve la storia della tua vita allora la storia della mia vita e come la spiego diciamo che andando scuola non è che io a parte non abbia molta voglia di andare a scuola precisiamolo principalmente vado a scuola sono andato a scuola adesso lavoro faccio l'animatore e vengo qui da boned a montare montare video e faccio il parcheggiatore abusivo e l'elfo domestico e l'elfo domestico sport preferito allora sport preferito diciamo non è che io segua molto lo sport diciamo non ho praticato molti sport ho praticato nuoto e mi sarebbe piaciuto fare calcio ma non ho mai avuto la possibilità però se devo dire uno sport preferito se proprio devo il calcio ma da giocare non da guardare spiega viewers perché non hai mai visto dragon ball dragon ball e allora principalmente perché dico la verità non se dovevo scegliere tra dragon ball e per esempio i pokemon dragon ball lo vedevo troppo non riuscivo a seguirlo diciamo invece i pokemon genere musicale preferito e cantante anche preferito genere musicale preferito diciamo sul rap e anche un pochino sulla trap però principalmente sul rap cantante preferito scontrandomi anche con con peppe lui su sfera e basti io mi butto su shate barba sì o no allora diciamo che barba su di me almeno no perché mi dicono che comunque non è che ci sto bene lo penso anche io però poi quando non mi va di levarla rimane fine sei credente? no hai mai fumato uno spinello? no non è vero genitore 1 o genitore 2? genitore 1 libro o tv? assolutamente tv i libri li odio marvel o dc? è anche il tuo supereroe preferito? allora marvel dc diciamo non è che io l'abbia seguita chissà quanto marvel invece sì tantissimo quindi marvel supereroe preferito invece diciamo spider man android o apple? allora ho sempre utilizzato android però mi piacerebbe addentrarmi sul mondo apple pc o console? pc steam o epic games? è assolutamente steam gamer occasionale o pro player? gamer occasionale non sono molto diciamo in gamba a giocare ai videogiochi però mi ci diverto mcdonald o burger king? allora mcdonald perché più che altro perché sono stato abituato con quello perché anche il burger king non è male intel o intel? intel anche se la domanda era md intel a prescindere perché... ok grazie intel che fai da bonhead oltre il giullare e il parcheggiatore abusivo? allora da bonhead faccio il videomaker colui che si occupa di fare riprese e montaggio video ti piace il tuo lavoro da bonhead? assolutamente sì anche perché è la mia passione quindi descrivi il tuo lavoro dentro bonhead? allora il mio lavoro dentro bonhead principalmente il mercoledì che noi facciamo il pomeriggio ci dedichiamo alle riprese la sera ci dedichiamo a registrare il parlato che voi vedete nei nostri video e poi il resto dei giorni in cui sono presente il montaggio di tutto ciò che abbiamo fatto il mercoledì ti trovi bene nella crew? assolutamente sì chi è il più calmo? allora il più calmo... papadocca cioè la calma in persona poi quando si arrabbia però chi è il più disastroso? eh il più disastroso è il sottoscritto purtroppo e il più disordinato? il più disordinato... se la giocano doc e ovviamente io non so perché io tra le cose video che butto da una parte all'altra doc e tra le cose personali che butto da una parte all'altra non saprei cosa ne pensi di bonhead? allora bonhead diciamo l'ho conosciuto per caso sono stato... quando due anni fa mi sono lasciato mi è capitato di venire qua in negozio per vedere un assemblaggio dal vivo e ho visto come gestivano le cose allora ho chiesto se potevo magari dedicarmi alla parte video andando avanti poi sempre più rapporto sempre più legame tra bonhead e il sottoscritto e adesso siamo arrivati qua con bonhead che ormai è praticamente un amico non è neanche più il diretto il capo è un amico fine ottima persona e soprattutto sincera un saluto finale ciao 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 ciao